Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, come sempre, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto, canonico disordine della mia libreria. Allora, cari signori, finalmente dopo tanto tempo, di nuovo, mi accingo a parlare di un altro aereo. Cioè, allora, tanta gente mi ha chiesto, Mike, perché non ci parli del Mach-MC-205? Mike, per favore, parlaci del Mach-MC-205. Signori, che vi posso dire? Ho parlato del G-55, ho parlato del Reggiane 2005 e ritengo che sia il momento di parlare dell'ultimo caccia della serie 5, ovvero sia il Mach-C-205V Veltro, eccolo qua, eccolo qua, il Veltro, in questo bellissimo disegno di Michele Marsan, eccolo qua, il Mach-MC-205 Veltro, il caccia della Mach-C, il caccia Air Mach-C che, come dire, sostituì, si affiancò al C-202. Eccone qua, un interessantissimo spaccato tecnico. Notate, come sempre, la complessa, intricata, robustissima, ma barocca e costosissima costruzione dell'ala. Eccolo qui. Insomma, un progetto oggettivamente non propriamente up-to-date, non propriamente aggiornato, poco razionale a livello produttivo, ma indubbiamente una struttura che rendeva quasi indistruttibile il Veltro, il 202 e il 205. E questo qui è praticamente il tre viste del MC-205V Veltro serie 3. Eccolo qua, ok? Un aereo bellissimo, un aereo splendido, un aereo che finalmente aveva un armamento all'altezza rispetto al semi-disarmato 202 e rispetto soprattutto ai mezzi, come dire, ai mezzi avversari. Praticamente, come nacque il 205? Dunque, allora, nella primavera del 1941 ci fu la richiesta di un aereo da caccia con il motore DB605A1, che fu prodotto su licenza in Italia come RA1050RC58-1 tifone. Allora, l'aermacchi diede una duplice risposta, ovvero sia, prima il C202bis, ovvero sia un folgore, un C202 folgore, adattato al nuovo motore con modifiche ridotte al minimo, e il vero e proprio C205. Allora, quando la regia aeronautica specificò che i caccia con il nuovo motore avrebbero dovuto contenere nella sigla il numero 5, il C202bis fu ribattezzato C205V. V per veltro, ma esiste anche l'ipotesi che V stesse a significare veloce o l'architettura a V del motore e che questa stessa iniziale avesse ispirato il nome veltro in deroga alla scelta di scegliere nomi astronomici come Orione, come Sagittario, come Centauro. Allora, il C205 divenne invece C205N, che sta per nuovo, e fu battezzato Orione. Allora, il C205V ebbe due prototipi, la matricola militare 9487 che volò il 19 aprile 42, pochi giorni dopo l'uscita di fabbrica all'aeroporto di Lonate Pozzolo, con il collaudatore Guido Carestiato e la matricola militare 9488 che, come il precedente, era un C202 AS, Africa Cassetto Interionale, CB, caccia bombardiere, Folgore, serie 9, con il motore sostituito, ovvero sia con, al posto del DB601, il DB605. Allora, un terzo esemplare, ovvero sia la matricola militare 9486, sembra essere stata utilizzata esclusivamente per prove statiche. Allora, probabilmente a causa di un errore tecnico, di un errore dell'ufficio sorveglianza tecnica, il primo C205V ha avuto per breve tempo la matricola militare 9287 che era riservata invece al primo esemplare della serie 1. Ok? Allora, nelle successive valutazioni i prototipi dei G55, C205V e Regiane 2005 si dimostrarono più o meno equivalenti, anche se la regia aeronautica sembrò prediligere il comportamento del G55, soprattutto per le sue prestazioni ad alta quota, perché ricordiamoci, il 202 sopra i 5.000 metri qualche problemino ce lo aveva. Allora, l'8 gennaio 1943 il 205V fu ufficialmente battezzato Veltro e i primi esemplari della serie 1 vennero assegnati ai reparti il 12 febbraio 1943 a Pantelleria Margana. Allora, la produzione del 205 fu di 164 esemplari per la regia aeronautica, ma continuò per breve tempo anche dopo l'armistizio negli stabilimenti del nord con 88 aerei per la ANR e 25 per la Luftwaffe. Allora, al sud invece almeno 29 Veltro vennero ricavati rimotorizzando con i DB605 rimasti i C202. Allora, il principale inconveniente del 205V Veltro serie 1 era l'armamento che era lo stesso del 202, ovvero sia le due canoniche mitragliatrici sul muso da 12,7 mm. Integrate ma non sempre da due armi alari da 7,7 mm. Allora, per superare questa limitazione fu creata finalmente la serie 3 che introduceva due cannoni alari Mauser MG151-20A da 20 mm con 250 colpi per arma, in sostituzione finalmente delle mitragliatrici leggere alari. E talvolta questa serie appare citata anche come 205V AS. Allora, il Veltro fu apparentemente l'unico caccia monoposto italiano in cui la versione da ricognizione fotografica sia stata realizzata in più di qualche prototipo, cioè circa 20 esemplari. Immediatamente prima dell'armistizio della versione fotografica era stata richiesta una produzione di 3 esemplari al mese, ma ovviamente non se ne fece nulla. Allora, invece il C205N, che sarebbe questo qua, ovvero sia la matricola militare 500, ecco qui, questo è il prototipo del C205N, ovvero sia l'esemplare con la matricola militare 500. Allora, dicevo, Castoldi per la serie 5 aveva suggerito, come ho già detto, la soluzione a basso rischio del C205V. E come dire, pensava a un aereo riprogettato per rispondere alle specifiche della reggia aeronautica per un migliore comportamento ad alta quota, perché il C202, il folgore, diciamo che superata una certa quota qualche problemino ce l'aveva. Con un'apertura alare maggiorata si pensava di garantire un comportamento migliore ad alta quota. Allora, in particolare il C205N aveva un'ala più grande la cui apertura passava da 10,58 a 11,25 metri, con un conseguente aumento della superficie alare da 16,80 a 19 metri quadri, che garantiva un decremento del carico alare di circa 4 kg a metro quadro, che non è neanche poco. Allora, il primo prototipo, che fu battezzato, cioè il C205N, che ripeto fu battezzato Orione, volò il primo novembre del 42 a Lonate Pozzuolo, sempre con Guido Carestiato, mentre un secondo prototipo, questo, la matricola militare 500, eccolo qui, iniziò i collaudi il 19 maggio 43 sullo stesso aeroporto e con lo stesso pilota. Allora, a scanso di equivoci, per evitare confusione, bisogna ricordare che la bibliografia ha parlato spesso di C205N1 e C205N2, ma queste designazioni non sono mai esistite, ok? Nei documenti si parlava soltanto di C205Tucur, talvolta con le indicazioni della matricola militare, oppure D205N1 e C205N2. Allora, del resto, i due prototipi erano assolutamente identici e le sole differenze riguardavano l'armamento, perché sul primo 205, sul 499, era stato previsto un armamento costituito da un cannone da 20 mm nell'asse dell'elica con 400 colpi e quattro mitragliatrici da 12,7 con 350 colpi ciascuna. Mentre il secondo prototipo aveva, diciamo, un armamento più adeguato ai nuovi standard, che prevedeva tre cannoni da 20 mm con 300 colpi per arma, più due mitragliatrici da 12,7. Allora, quando volò la matricola militare 500, era già stato deciso di produrre in serie il G55 e quindi l'Orione, eccolo qua, questo è l'Orione, la versione se vogliamo per alta quota del C205, non ebbe seguito. Allora, i due prototipi furono sorpresi dall'armistizio sull'aeroporto di Roma Guidonia, ma ahimè, non si sa che cosa ne accadde, che cosa ne fu. Allora, il Machi 205, questo è l'esemplare che volava negli anni 80 prima che fosse messo a terra dopo un brutto incidente, eccolo qui, con i colori della regia aeronautica italiana cobelligerante, eccolo qua, dicevo, il 205 era un aereo che aveva tutte le caratteristiche positive degli aerei Machi, ovvero sia maneggevolezza, buone prestazioni, un eccellente, diciamo, era un eccellente pilot's plane, era un bel gingillo per i piloti, il Machi 205. E finalmente era dotato di, parlo del veltro, parlo del C205 velto, era dotato finalmente di un armamento all'altezza, perché finalmente un caccia italiano con i cannoni da 20 mm alari, una cosa che ci vollero tre anni buoni di guerra per fare. E non è poco. Questi sono alcuni esemplari di veltro in servizio con la regia aeronautica, con l'aeronautica nazionale repubblicana e con l'aeronautica italiana cobelligerante. Eccoli qua. Insomma, un aereo che ha tutte le caratteristiche dei grandi prodotti aeronautici italiani. Ripeto, elegante, robusto, veloce, finalmente, e ripeto e sottolineo, finalmente ben armato, finalmente, un aereo che però, come tutti gli aerei della serie 5 italiana, G55, 2005 e questo il 205, mai, come in questo caso, sempre la solita storia del troppo poco, troppo tardi. Mai disponibile in quantità, pressoché impossibile fabbricarlo in massa, ne furono ricavati circa 200 più o meno, poco più circa 200 più o meno, soprattutto rimotorizzando col DB605 il Machi 202, il forno. Questo è un altro, ecco, vedete anche voi, questo è un veltro al decollo, eccolo qua, e qua ci sono le installazioni tecniche di motore, questo è il motore, notare i due caratteristici barilotti, i due radiatori dell'olio a barilotto, che sono, come dire, il segno distintivo principale che distingue il 202, il 205 dal 202, eccoli qua, e questo è sempre il classico castello motore dei motori Daimler-Benz, ok? Insomma, un aereo, il 205 eccezionale, un aereo dalle buone prestazioni, un aereo paragonabile, come sicuramente superiore ai P40, sicuramente superiore agli Spitfire Mark V, più o meno paragonabile allo Spitfire Mark IX, anche se aveva prestazioni leggermente inferiori, sicuramente, bisogna dire la verità, inferiore come prestazioni velocistiche al Mustang, eccolo qua, però era finalmente un aereo con un armamento moderno e all'altezza, perché, insomma, i cannoni da 20, insomma, c'è una certa differenza, se vogliamo, con un aereo armato con due soli mitragliatrici, insomma, finalmente la serie 5 pose rimedio alla cronica, alla cronica carenza di armamento dei nostri velivoli da caccia. Si passò, ripeto, si passò dalle due mitragliatrici montate sul muso, finalmente, ad aggiungerci, finalmente, era ora, due cannoni alari, che garantirono al veltro la potenza di fuoco necessaria per far male anche alle fortezze volanti. Naturalmente, le prestazioni ad alta quota erano, sì, accettabili, ma nemmeno esaltanti. Ripeto, era un problema tipico del 202, quello di trovarsi un pochino ad arrancare sopra i 5-6 mila metri, ma che vi devo dire? Quello avevamo e quello dovevamo e quello dovevamo usare. Questo è, per esempio, un veltro con le insegne tedesche, per la precisione, con le insegne del primo gruppo dello Jagdgeschwader 77, ecco, sempre in Italia. Ai tedeschi il veltro piaceva, lo consideravano un aereo di facile pilotaggio, un aereo, un buon aereo lo consideravano i tedeschi, però tenete sempre presente quello che disse Adriano Visconti a proposito dei nostri aerei. Adriano Visconti sosteneva che per volare il Macchi era una macchina fantastica, ma per fare la guerra servivano i Mesh Smith 109. Eh, purtroppo è così. Insomma, 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 insomma. Macchi C-205V, il veltro. Un grande aereo, ma ahimè, prodotto in troppi pochi esemplari, con un impiego bellico discontinuo e decisamente limitato. Ne furono ricostruiti alcuni dopo la fine della guerra, alcuni furono ceduti all'Egitto, dove si scontrarono durante le guerre contro Israele con gli Spitfire e i Mustang con la Stella di Davide. E niente, che vi posso dire? Come sempre un buon aereo, costruito in numeri purtroppo limitatissimi a causa delle carenze della nostra industria, ma anche e soprattutto perché la struttura era barocca, complicata, pesante e costosissima. Ecco qua, notate la struttura alare, signori. Notate la struttura alare, ok? Robusto. Era indubbiamente un aereo estremamente robusto, estremamente, come dire, resistente, cioè sopportava piuttosto bene i maltrattamenti, ma ripeto, era un aereo che costava decisamente troppo e non se ne riusciva a produrre più di un esemplare al giorno. Ripeto, è un episodio che ho citato più volte, ma tanto come dire, più di quasi trent'anni fa io conobbi un tecnico dell'ermacchi a moto storiche in Grand Prix a Misano Adriatico. Questo signore aveva lavorato alla sezione aeronautica dell'ermacchi prima di passare al reparto corse della Schiranna e spiegò a me e ad altri appassionati che in macchi era tanto se si riusciva a costruire veramente un 202 o un 205 al giorno. In realtà per farne tre, per fare insomma per fare tre 205 ci volevano quattro giorni, mentre tanto per dirne una, i tedeschi producevano in un giorno una ventina di Bf 109. Insomma, le differenze sono quelle qui. Comunque, guardi, una comparazione è estremamente utile per capire il livello di complicazione e soprattutto il costo dei nostri aerei, perché tenete presente una cosa, ecco qua, in questo diagramma qua che vedete, ecco, guardate qua, questo sopra, cioè questa sopra è la sezione alare del G55 che già è complicata di suo, ok? Questa, questa invece è la sezione alare del Machi 205 V del veltro. Notate la differenza di concezione, ok? Notate la differenza e soprattutto immaginatevi quanto può essere più costosa l'ala del Machi. E quella sotto, eccola qui, è la moderna sezione alare del Regiane 2005. Ma soffermiamoci un attimo sulla struttura all'area del veltro, sulla struttura all'area della Machi. Un aereo costruito in metallo ma con una struttura pensata e nata per il legno, perché i nostri progettisti aeronautici, Castoldi non era più giovanissimo quando progettò il 202 e il 205. Dicevo, i nostri progettisti non si rendevano conto che il metallo, che le strutture metalliche vanno costruite e usate secondo i criteri specifici del metallo e delle leghe leggeri. Cioè è inutile usare alluminio in quantità per copiare le strutture che una volta venivano costruite con legno. Esatto. Perché noi, soprattutto l'ingegner Castoldi, ripeto, l'ingegner Castoldi, fece questo errore, non fu in grado di capire, ma andò sul sicuro oggettivamente perché c'era poco da rischiare, cioè si era in tempo di guerra, si doveva correre, si doveva avere fretta. I voli pindarici in guerra non vanno bene, occorre qualche cosa di razionale e qualche cosa che sia già sotto mano. Quindi che cosa fecero? Usarono quello che già c'era. La struttura alare tipica dei cacciamacchi di Castoldi, eccola qua, eccola qua, con i suoi correntini, i suoi travetti, i suoi giunti, la sua enorme complicazione e soprattutto il suo enorme costo. Tutto qui. Quindi, cari signori, ripeto, il Mach C205V fu un aereo che per l'ennesima volta, si può dire, grande occasione mancata. Un aereo all'altezza della concorrenza internazionale, ma, ahimè, è entrato in servizio desolatamente tardi e in pochissimi esemplari. Sempre così, purtroppo. Che vi devo dire? Quindi, cari signori, il sottoscritto vi saluta, vi ringrazia come sempre per l'attenzione e come sempre vi auguro arrivederci al prossimo video. Ciao! Ciao!